Aggiornamento breve ma importante per quanto riguarda il prossimo match di Marvin Vettori Sappiamo ovviamente che il match contro Robert Wittaker era saltato per l'11 giugno a UFC 275 Si stava parlando per vedere se Marvin sarebbe rimasto in quella card o se invece semplicemente sarebbe stato posticipato il suo prossimo match Che fosse contro Wittaker o contro un nuovo avversario Nelle scorse settimane avevamo già pubblicato un video in cui avevamo riportato l'opinione di Ali Abdelaziz, il manager di Marvin Che aveva detto che era molto improbabile che Marvin rimanesse effettivamente nella card di UFC 275 Effettivamente adesso poche ore fa è arrivata la conferma su Instagram di Emanuele Lochner Membro integrante, parte integrante del team Vettori Che ha confermato che la data dell'11 giugno per UFC 275 è sicuramente saltata per quanto riguarda il ritorno di Marvin nell'ottagono Al momento non ci sono ancora news specifiche ma la cosa certa è che Marvin Vettori non combatterà a UFC 275 contro nessun avversario Vedremo se verrà riprogrammato il match con Wittaker Se ci saranno altri avversari abbiamo visto che molto probabilmente Till affronterà Jack Hermanson Abbiamo visto che Cannonier affronterà ovviamente Israela Desania Le opzioni che rimangono non sono tantissime e una di queste diventa ovviamente sempre più probabile e anche sempre più sensata da un certo punto di vista Che è quella di aspettare il ritorno di Wittaker, il recupero di Wittaker per riprogrammare il match il prima possibile In ogni caso vi terremo aggiornati, la notizia importante è che Marvin non combatterà i UFC 275 Per qualsiasi aggiornamento come sapete potete trovarci sempre qui sul canale Alla prossima ragazzi!